Musica Buonasera a tutti voi dalla redazione di Teletruria, ben trovati a questo nuovo appuntamento con il nostro telegiornale. Subito parliamo di giostra del Saracino perché dopo otto anni la consegna della Lancia d'Oro torna in tribuna a Via Libera del Prefetto al progetto realizzato dagli architetti Enrico Lazzeri e Stefano Del Santo. La decisione è stata presa durante la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Da ipotesi a realtà, sabato 22 giugno il rettore del quartiere che si aggiudicherà la 145esima edizione della giostra del Saracino riceverà l'ambito trofeo dalla tribuna a. Con il nulla osta del prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca, il progetto realizzato dagli architetti Enrico Lazzeri e Stefano Del Santo prende vita. Di fronte alla tribuna verrà allestita un'apposita struttura dalla quale il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, consegnerà al rettore del quartiere vittorioso il trofeo dedicato ai 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari. La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dopo otto anni, dunque, questo momento particolarmente atteso torna nel luogo in cui avveniva fino a qualche anno fa scelta subordinata alla raccomandazione che spettatori e figuranti restino ai posti a loro assegnati fino al momento in cui la lancia d'oro non sarà nelle mani del quartiere vincitore. Primo passo dell'anno vasariano in città con la mostra dedicata all'origine del nome Vasari che deriva da Vasaio. Ne capiamo qualcosa di più con Maddalena Pieroni collegata con noi. Maddalena, dove sei e con chi? Ciao Simona, siamo in collegamento dal Museo archeologico di Arezzo dove è appena terminata la presentazione della mostra Vasai Vasari perché gioca un po' su questo, questa bellissima mostra, fra l'altro dei cocci rossi come sono stati definiti, in realtà sono molto più di questo. Allora, intanto spieghiamo ai nostri telespettatori perché questo binone. Sì, semplicemente abbiamo voluto spiegare perché Vasari si chiamasse così, quindi l'origine del suo nome, del nome della famiglia, deriva dal mestiere, dall'arte che praticava il nonno Giorgio di Lazzaro, che era Vasaro proprio nella nostra città. Allora, durante la conferenza stampa Maria Gatto, la direttrice, ha spiegato che esistono due tipi di questi manufatti, uno un po' più semplice e uno un po' più articolato e di pregio. Esatto, la produzione antica in età di età romana si differenziava in una produzione liscia, più semplice e popolare e una produzione decorata a rilievo che derivava da matrici e che quindi ci consegna un patrimonio ricchissimo e veramente variegato di raffigurazioni antiche che hanno la loro ispirazione nell'antichità classica. Esattamente, infatti abbiamo visto uno di questi, degli Aretina Vasa, il coccio di Ateio è bellissimo e poi ce ne sono anche altri, oltretutto sono stati trovati in tutto l'impero grazie al fatto che venivano venduti. Esattamente, il percorso della mostra. Allora, la mostra appunto racconta della vicenda del nonno di Vasari, Giorgio Di Lazzaro, appunto quindi il fatto che imitasse i vasi antichi, addirittura li avesse ricercati nel nostro territorio, ne avesse ricercate luoghi di produzione e poi come questi vasi fossero stati anche oggetto di dono a Lorenzo il Magnifico. Inoltre c'è un approfondimento di tipo storico-archeologico-archeologico sul sito delle carcerelle lungo attualmente la nostra via Fiorentina, luogo di produzione appunto e di ricerche già in età quattrocentesca, ma un altro aspetto molto importante è il suggerimento della ricerca di inessi e collegamenti fra le raffigurazioni di questi vasi antichi e poi il patrimonio anche figurativo di Vasari che in qualche modo può essersi ispirato avendo una conoscenza anche così approfondita ai nostri vasi aretini. Benissimo, grazie direttore. Allora questa Simone è una mostra tutta da vedere e da scoprire, come ci ha spiegato Maria, piena di intuizioni che soltanto venendo qua si potranno scoprire. A te la linea. Ottimo, grazie Maddalena a te e alla tua ospite. Noi adesso passiamo alla politica perché dopo la spaccatura degli scorsi mesi Nicola Carini e tutto il centro-destra Cortona fanno un passo indietro e dichiarano che appoggeranno Meoni al ballottaggio. Prosegue il dibattito interno al centro-destra a seguito dei risultati arrivati dalle urne nel comune di Cortona. In attesa del ballottaggio il candidato del centro-destra Carini che si è attestato poco sopra il 13% ribadisce il proprio sostegno al sindaco uscente Meoni per il testa a testa elettorale Convignini che si svolgerà il 23 e 24 giugno. La posizione per quanto mi riguarda ma per quanto riguarda tutto il centro-destra è stata molto chiara e l'ho dichiarato in tutte queste settimane e anche adesso dopo il risultato elettorale. Noi crediamo che sia giusto seguire quello che gli elettori hanno detto quindi dare fiducia al sindaco Meoni e giustamente i nostri voti che sono nel centro-destra devono rimanere in quel ambito lì e quindi crediamo che sia la scelta migliore. Insomma questo hanno detto gli elettori e quindi dobbiamo seguire le loro indicazioni. Oltre a Carini arriva l'appoggio a Meoni anche dai partiti di centro-destra. La Lega giudica come corretta la dichiarazione di Carini e ammette la necessità di una seria riflessione dopo la spaccatura tra centro-destra e appunto Meoni. Inoltre la Lega della provincia di Arezzo lancia una frecciata a chi nel partito ha imposto la scelta di candidare Carini al posto di Meoni, ricordiamo sindaco uscente, andando così a spaccare questa parte politica. Intanto Carini dichiara di non essere interessato dopo un'eventuale vittoria di Meoni al ballottaggio ad un ruolo in giunta come assessore. Ho fatto un annuncio non chiedendo assolutamente niente, credo che l'ho fatto per convinzione, il fatto di dare l'appoggio a Meoni perché ho sempre detto che mai sosterrò PD e 5 Stelle. Non ho bisogno di nessun accordo, non ho bisogno di nessuna remunerazione in tal senso, nemmeno di far parte di una futura giunta, insomma almeno per quanto riguarda il sottoscritto lo escludo categoricamente. Dopo lo strappo dei mesi scorsi quindi sembra ricompattarsi il centrodestra in favore di Meoni in vista del ballottaggio. La cronaca adesso infortunio sul lavoro nella zona di San Zeno coinvolto un uomo di 36 anni ricoverato in codice giallo al pronto soccorso del San Donato. Le sue condizioni inizialmente sembravano delicate, in realtà non è in pericolo di vita. È successo intorno alle 12 in un'azienda di lavorazione metalli, sembra che l'uomo sia caduto da una scala. Sono intervenuti l'auto infermierizzata e l'ambulanza della Croce Rossa di Arezzo per i rilievi sul posto, anche il PISL della ASL. Altro infortunio è poi avvenuto anche nel pomeriggio in via Pasteur, sempre ad Arezzo coinvolto un 27enne, sempre in codice giallo, trasferito al San Donato. E domani è convocato il Consiglio Comunale a Retino all'ordine del giorno anche una variazione di bilancio per i lavori pubblici, in particolare per via Fiorentina e la sua rotatoria. Sarà portata nel Consiglio Comunale di questo giovedì una variazione di bilancio destinata alle opere pubbliche. Si tratta di 2 milioni e 400 mila euro per il completamento della rotatoria con sottopasso di via Fiorentina, un'opera che fatica a vedere la luce. L'ultimo intervento, almeno visibile, risale al Natale scorso quando sono stati gestiti sotto servizi con parziale chiusura della carreggiata in periodo prefestivo, con tanto di richiesta di danni da parte dei commercianti. Da allora non ci sono state novità, se non quella in arrivo con lo stanziamento di nuove risorse che fanno lievitare i costi. Si va verso i 10 milioni di euro di investimento totale. Tra l'altro, su questo punto è stata anche convocata una seduta straordinaria della Commissione Lavori Pubblici per martedì 18 giugno, su richiesta dell'opposizione, oggetto, appunto, la rendicontazione dei lavori della rotatoria di via Fiorentina. Passate le elezioni, il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti torna in pista sul San Donato e batte cassa alla Regione per i fondi. Intanto la ASL sta facendo le verifiche per il project financing. Non è passato neanche un giorno dall'elezione, Lucia Tanti ritrova il consueto piglio per la sanità locale in un post su Facebook, batte cassa alla Regione Toscana per i fondi per rifare l'ospedale San Donato. Visto che le elezioni europee sono passate, spiega Tanti, tenuto conto che per prudenza si era detto di aspettare questo appuntamento, adesso per me il punto numero uno del mio impegno, spiega Tanti su Facebook, è sapere da Regione Toscana come possiamo programmare l'arrivo dei 150 milioni di euro per fare del vecchio San Donato il nuovo San Donato. Pare che il post abbia creato non pochi malumori in Regione, tanto che qualcuno avrebbe sussurrato. I soldi li chieda a Meloni. Intanto il direttore generale della ASL, Antonio Durso, sta portando avanti le opportune verifiche sulla ditta che Ghinelli e Tanti hanno indicato come quella che si farà carico delle spese necessarie per arrivare alla cifra per rifare il San Donato tramite appunto il project financing. Pare che l'ASL, per non sbagliare, abbia chiamato fior di esperti ed esperte nazionali nella realizzazione di ospedali in tutta Italia, proprio tramite lo strumento del project financing per verificare la solidità dell'azienda in questione. Zelo e prudenza non sono mai in eccesso quando si tratta di un'opera pubblica così importante, ha tenuto a rimarcare il direttore generale Antonio Durso. Questa è la prassi e questi sono i fatti. E noi, conclude, andiamo avanti seguendo le norme prima di fare proclami. Scelgo Arezzo con i consiglieri Donati e Sileno ha depositato un'interrogazione in vista del Consiglio Comunale di domani sull'inquadramento giuridico delle fondazioni del Comune. Le fondazioni Guido d'Arezzo in tour hanno natura pubblica e devono quindi sottostare a controlli trasparenti. Lo dicono i consiglieri comunali di Scelgo Arezzo che nutrono dubbi sulla gestione delle fondazioni e chiedono chiarimenti. Imponiamo appunto riflettori sulla forma giuridica adottata per le nostre fondazioni. I trasferimenti delle risorse sono ingenti e avvengono quasi essenzialmente dal Comune. Quindi chiediamo, poiché il Consiglio Comunale non arriva a nulla e quindi non siamo in grado di effettuare la nostra attività di controllo e di indirizzo, di poter visionare o comunque di avere visione completa di tutto quello che viene gestito dalle fondazioni. Voi portate anche delle sentenze che possono aiutare a capire appunto come ci si deve regolare in questa materia e chiedete anche dei controlli alla Corte dei Conti. Chiediamo semplicemente, cioè vogliamo essere d'aiuto all'amministrazione per capire se si stanno muovendo in maniera corretta rispetto a questi due strumenti molto importanti ma che utilizzano tanti soldi dei cittadini. E noi come consiglieri comunali vogliamo capire se possiamo dare un contributo per efficientare la spesa e perché questa spesa sia trasparente. Ovviamente citiamo fonti del diritto e chiediamo se il Comune vorrà magari successivamente chiedere un'autentica interpretazione alla Corte dei Conti. Via l'azione legale da parte della ASD nei confronti della provincia per la restituzione della palazzina che ospita l'ITIS al Pionta e anche gli affitti dovuti all'azienda. Il direttore generale ha firmato ieri la delibera e il procedimento è così partito. Dalle parole ai fatti, l'ASD Toscana Sud-Est con delibera firmata dal direttore generale Antonio Durso l'11 giugno ha formalmente chiesto agli avvocati dell'azienda di intraprendere azione giudiziale nei confronti della provincia di Arezzo per la restituzione dell'immobile di via Cittadini e il risarcimento dei danni derivati dall'illegittima occupazione. L'immobile è quello dove ora viene ospitato l'ITIS con la succursale del Pionta. Pare che la provincia in questi anni abbia accumulato un debito di circa 5 milioni di euro di affitto che non essendo bruscolini l'ASL vuole recuperare. Nei giorni scorsi sia Durso che il presidente della provincia Alessandro Polcri si erano incontrati per venire a capo di una questione nata ben prima del loro mandato impossibilitati a stabilire la cifra esatta che l'uno deve all'altro. Durso per l'immobile della salute mentale in via Guido Monaco da mesi però restituito alla provincia e Polcri per la palazzina ITIS al Pionta entrambi avevano stabilito di andare in causa. Il primo a fare sul serio è stato appunto il direttore dell'ASL. Nella delibera si fa anche un po' di storia recente delle richieste per lettera avanzate da Durso a Polcri alle quali però il presidente non avrebbe risposto. Per il momento si procederà con la misura della mediazione per la restituzione degli immobili detenuti dalla provincia sine titolo, si legge, e gli affitti. Vedremo come risponderà Polcri. La cronaca giudiziaria adesso udienza preliminare ieri in tribunale ad Arezzo per Sandro Mugnai, il 56enne retino accusato di eccesso colposo di legittima difesa. Mugnai sarà giudicato con il rito abbreviato, il processo a settembre. Il fatto, lo ricordiamo, risale al 5 gennaio 2023 quando Mugnai sparò e uccise Jezim Dodoli, vicino di casa di origini albanesi, che con una ruspa si era scagliato contro la sua abitazione per demolirla, mentre l'uomo e la sua famiglia si trovavano all'interno. I legali della retino, Marzia Lelli e Piero Melani Graverini, hanno chiesto per il loro assistito il rito abbreviato. CNA Arezzo, cambiamo completamente argomento, e CNA Toscana su Rai 2, protagoniste di Cerchiamo Te, Missione Lavoro, sabato 15 giugno. La puntata condotta da Adriana Volpe racconta l'azienda Amen e le aspirazioni dei giovani. Riflettori puntati su Arezzo, sabato 15 giugno alle 11.15 su Rai 2, nella puntata di Cerchiamo Te, Missione Lavoro. Il format televisivo condotto da Adriana Volpe, che fa conoscere al grande pubblico la realtà delle imprese. In primo piano l'azienda di gioielli Amen, con i suoi prodotti tra tradizione e innovazione. Il titolare, Giovanni Licastro, e il suo staff saranno a colloquio con tre giovani, tutti studenti, poco più che ventenni, che vogliono mettersi in gioco per avviarsi al mondo del lavoro. Tra loro verrà selezionata la figura di designer di gioielli da inserire in organico. Protagonisti della puntata saranno anche il presidente di CNA Toscana, Luca Tonini, il presidente di CNA Arezzo, Fabio Mascani, e la direttrice, Edi Anasetti. All'interno del programma ci sarà spazio anche per raccontare la storia di Alice, giovane aspirante scalpellina che ha rinunciato ad un posto fisio in Vaticano per inseguire il sogno di aprire una bottega artigiana in Casentino. Il suo coraggio e la sua determinazione meritano la ribalta televisiva, spiega Edi Anasetti, e appena terminerà gli studi le offriremo tutto il supporto e l'assistenza gratuita per avviare l'attività e proseguire un mestiere antico che si sta perdendo. Manutenzione auto cresce la spesa e anche la Toscana non fa eccezione. La situazione ad Arezzo nel 2023 è aumentata del 19,7% rispetto al 2022. Nel 2023 gli automobilisti della Toscana hanno speso 3.064,2 milioni di euro per provvedere alla manutenzione e alla riparazione delle proprie autovetture. Questi dati derivano da uno studio dell'osservatorio Autopromotec, la struttura di ricerca di Autopromotec, la rassegna espositiva internazionale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico. Rispetto al 2022 la cifra spesa in regione è cresciuta del 21,2%. La provincia di Firenze è quella che nel 2023 ha fatto registrare il maggiore aumento della spesa, più 23,5%, seguita da Pistoia, Lucca, Prato, Massacarrare e Pisa. Segue Arezzo che dunque secondo l'indagine è al settimo posto nella regione per incremento di spesa. Nello specifico la spesa sostenuta dagli automobilisti aretini nel 2023 è stata di 251,5 milioni di euro, con un incremento del 19,7% rispetto all'anno prima. Sul dato pesa anche l'inflazione, infatti durante il 2023 i prezzi per le attività di manutenzione e riparazione dei mezzi sono cresciuti del 4,9% su base annua. L'esborso stimato secondo l'osservatorio Autopromotec nel 2023 è salito ai livelli massimi, livelli che non hanno precedenti negli ultimi anni. Ancora una breve di cronaca. Il cittadino nigeriano che nei giorni scorsi si è introdotto in un'abitazione privata ad Anghiari e si è poi dato alla fuga nel fango, oggi è comparso davanti al giudice Margheri per resistenza, furto in abitazione, lesioni contro gli agenti e false dichiarazioni. Il PM Bernardo Albergotti ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere. Il processo è stato fissato per l'11 settembre. L'uomo ha sette nomi falsi con i quali ha collezionato condanne per oltre 30 anni. Assunti dalla Fraternita dei Laici, tre extracomunitari tra i migranti accolti dalla stessa istituzione sono stati assicurati e messi in regola secondo la normativa e lavorano ora nei vasti vigneti delle tenute di Fraternita. Il primo rettore spiega, diamo così anche una risposta sociale. Siamo a Civitella, la vigna di Fraternita la chiamano Vigneto Martino perché è vicino a casa di Martino Gianni. Il dottor Rossi e Simone Fratini della Fraternita dei Laici ci spiegano chi sono i loro nuovi collaboratori perché hanno fatto un'operazione di carattere veramente sociale proprio con i migranti. Sì, noi Fraternita dei Laici abbiamo voluto trasformare tre migranti in tre operai agricoli secondo l'accordo e in pieno accordo con la Questura e la Prefettura e secondo le leggi dello Stato italiano. Questo passaggio è un passaggio importante perché abbiamo preparato, abbiamo dato tutti gli strumenti. Voi siete stati anche attaccati per aver accolto i migranti. Fra l'altro adesso loro fanno un lavoro che gli italiani non vogliono fare. Noi abbiamo difficoltà quando facciamo la raccolta per esempio delle olive, la raccolta anche dell'uva e spesso andiamo verso cooperative del Bangladesh, del Pakistan. Insomma è una realtà economica in grande evoluzione. Dobbiamo essere contemporanei. Come diceva il dottore non troviamo mano d'opera. Noi l'anno scorso abbiamo messo un annuncio cercando del personale anche specializzato italiano che sapesse guidare i trattori e non abbiamo avuto risposta. Per cui questa mano d'opera è necessaria perché in agricoltura tutte le cose non possono essere meccanizzate per cui c'è bisogno della mano dell'uomo e loro sono di aiuto e molto importanti per le nostre attività. Per cui ora stiamo facendo delle operazioni nella potatura verde delle viti e bisogna essere tempestivi per cui c'è bisogno di mano d'opera e questa iniziativa è molto importante per la fraternità oltre che per l'azienda agricola. Come ogni anno sono stati consegnati in comune i premi dedicati alle eccellenze del territorio aretino. Si è svolto presso il cortile del comune di Arezzo il premio Arezzo la terra dei grandi enesima edizione dell'evento che premia le eccellenze della città persone, aziende, sportivi o enti fra i premiati personalità del territorio della provincia di Arezzo di livello nazionale ma anche internazionale. Iniziamo con il giornalista Gianmarco Sicuro del Tg2 che è passato al Tg3 recentemente che è stato probabilmente il primo ad avere attraversato il confine Russia-Ucraina durante la guerra e il primo a trasmettere servizi dall'Ucraina. Il Carnevale di Foiano che come sappiamo è un'eccellenza del nostro territorio perché è arrivata alla 485esima edizione. La ginnasta Irene Leti fra le tante cose che ha fatto è anche un giudice internazionale di ginnastica. Poi avremo il dottor Domenico Gianni che tutti conoscono per essere stato il comandante della gendarmeria vaticana fra le tante altre cose che ha fatto e poi avremo il maestro Roberto Fabriciani che è forse il maggiore flautista al mondo in questo momento. Una serata che ha fatto da preludio all'edizione 2024 della Rezium Cup torneo di calcio Under-13 giunto alla dodicesima edizione e che si giocherà il prossimo fine settimana. Torneo organizzato dall'Olmo Ponte Santa Firmina che ha voluto negli anni aprire andando a premiare queste eccellenze del territorio. Questo per me è un premio importante proprio perché viene dalla mia terra, dalle mie origini. Adesso ho finito un tour europeo, sto preparando un lavoro, l'ultimo lavoro che feci con Andrea Camilleri in duo con Zingaretti. Arezzo è la mia città, la città del cuore, sono molto legato veramente. Ricevere questo premio ovviamente è un onore, lo ricevo io, lo ricevo però anche a nome di questa grande organizzazione che sono le Misericorde, lo ricevo anche a nome di tutte quelle persone che dedicano la loro vita al volontariato, al servizio al prossimo, al servizio ai più fragili, a tutte le persone che bisogna. Tanta gente in cattedrale per l'ultimo saluto a Luca Bindi, scomparso per un malore improvviso sabato scorso e nostro amatissimo collaboratore. Tante le persone che hanno partecipato alla messa celebrata da Don Stefano, parroco del Bagnoro, perché si sono estretti attorno alla compagna Susanna, alla figlia Chloe, al fratello Marco e a tutto il resto della famiglia. Nell'omelia di Don Stefano, tanto cinema, la passione di Luca. Il suo nome resterà legato alla nostra rubrica Weekend al Cinema, che per circa sei anni ha condotto con passione e competenza. Presenti anche i vertici dell'Inter Club di Arezzo, Inter Altra Passione di Luca. Naturalmente alla famiglia un forte abbraccio da parte di tutta Teletruria. E adesso il consueto appuntamento a cura di Lilietta Fornasari, che oggi ci porta alla Villicana Galleri di Arezzo per la mostra di Patrizia Bacarelli. Villicana Galleri ospita fino al 15 giugno una mostra personale di Patrizia Bacarelli. La mostra fa parte di un progetto molto interessante, che è quello di fare omaggiare da parte di artisti contemporanei e la grande figura di Giorgio Vasari in occasione delle celebrazioni di questo anno in corso. Patrizia Bacarelli può essere considerata un'artista molto legata allo stile figurativo, per quanto molto attenta a creare attraverso il colore e anche il disegno atmosfere particolarmente suggestive, cariche di emozioni, cariche di ricordi, partendo dal panorama che ha intorno a casa, ovvero tutto il panorama della zona di Rignano sull'Arno. Una pittura a volte romantica, a volte melanconica, ma senza dubbio dal grande impatto emotivo. Un'artista quindi che, se dobbiamo tenere conto della figura di Giorgio Vasari, può essere a quest'ultima riferita attraverso il sapiente uso del disegno. E come ogni mercoledì con l'arte termina questo appuntamento con l'informazione. Dopo di noi potrete assistere ad Arezzo e la giostra tra cronaca e storia. E poi farà seguito il nostro 910. Poi, aspettando il Palio dei Rioni di Cassiglion Fiorentino, trasmissione in diretta in prima serata e poi chilometro lanciato. Il settimanale di Teletruia dedicato al ciclismo a cura di Fabrizio e Massimo Biondi. È tutto per l'informazione, grazie a tutti voi che ci avete seguito anche questa sera. Grazie.